ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo il primo filmato è stato ripreso a tardanotte in una scuola chiusa alcuni ragazzi che passavano di lì per caso notano qualcosa di strano sembra che uno spirito si stia manifestando a quel punto i ragazzi riprendono il tutto con la loro telecamera il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il filmato oye disculpa no mames vete a la verga güey mi gente aquí está quedando toda la evidencia grabada hay una persona a la hora de la madrugada que horas son güey las 2 2 34 de la madrugada hay una disculpa niña necesitas ayuda a esta hora no hay clases oye güey te lo juro güey estoy temblando güey pero es una mujer va güey si güey no mames güey amiga vete a la verga güey no mames está bien cabrón güey mi gente aquí 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 queda grabada no hay clases vete a la verga se esta parando güey no mames güey graba graba güey no mames güey vete a la verga mi gente aquí 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 queda grabada madrugada no hay clases amiga con pos de ayuda vete a la verga se esta parando güey no mames güey graba graba güey güey no mames güey il prossimo video è stato ripreso da questi due ragazzi che durante una breve registrazione riprendono senza saperlo uno spirito proprio alle loro spalle il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il filmato andamos aquí en el callejón del aguacate y ya son a qué hora son gordó tres tres días tres días ah güey no mames güey se ve bien pinche solo no? mhm 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 doom i hmm mhm 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 di uno spirito dentro una stanza del negozio. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. No mames. Il prossimo filmato è stato ripreso da una telecamera di sicurezza di un'azienda. Il video mostra in una stanza dell'azienda quello che sembra essere lo spirito di una persona. Il vigilante, che è sul posto, non crede ai suoi occhi, guarda sul monitor e nota che c'è qualcuno, ma girandosi e guardando nella stanza non vede nulla di strano. A quel punto incomincia a farsi prendere dal panico. Ciò che viene ripreso è davvero impressionante. Questo è ciò che è stato filmato. Ok Why is that dark? Why is that dark? No. 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 montagne con la loro telecamera. Ad un certo punto notano in una grotta della montagna una strana creatura, dalle sembianze simili a quelle di un essere umano. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. E anche oggi siamo arrivati al termine ragazzi, il video finisce qui, non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima. Ciao. 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 Ciao.